Ragazzi, sono appena tornata in albergo, perché domani mattina partiamo per la capitale, quindi ho dovuto prendere la metro e tutto per arrivare qui, insomma un macello. Partivo dal presupposto che quando io guardo la partita allo stadio non riesco ad avere la fermezza di capire bene che cosa succede a livello tecnico, cioè faccio più fare fatica rispetto a quando ovviamente la guardo in televisione. Detto ciò però vi posso garantire che io questa sera, come credo tutti gli interisti allo stadio, ci siamo veramente divertiti, ci siamo divertiti perché l'Inter è riuscita a non subire mai, in realtà Sommer è stato spettatore non pagante questa sera e questa cosa mi inorgoglisce perché nella pre-season avevamo preso un po' di gol in più e quindi il fatto che abbia preso zero gol è una cosa che mi fa molto molto piacere, la difesa l'ho vista bene, la squadra l'ho vista molto compatta, anche i subentrati sono stati coinvolti subito nel gioco. Raga lasciatemi dire che Quadrado ci ha fatto vedere delle belle giocate, delle belle giocate raga, i piedi, sono quelli che sono di Quadrado, abbiamo sempre saputo questo. Benissimo, benissimo Arnautovic, ha fatto delle giocate spettacolari, c'è stato un passaggio di tacco che ora non ricordo a chi ha fatto, ma anche è stato un qualcosa, se non lo sbaglio all'Otaro, se non erro all'Otaro. Sono rimasta impressionata soprattutto da Mkhitaryan, ha corso per 90 minuti, impressionante. Bene tutti in realtà stasera, sto pensando, questa sera è stata la serata anche di Danilo D'Ambrosio, era visibilmente commosso, San Siro gli ha dato il tributo che meritava, abbiamo urlato il suo nome e cantato a lui per almeno 3-4 volte, forse qualcosina in più anche, come se fosse ancora uno di noi, ma perché lui è uno di noi. Poi è subentrato Frattesi, è uscito Ciananoglu, non è entrato Joachim Correa, si stavano riscaldando lui, Aslani, Sensi e compagnia bella, ma non li ha fatti entrare, perché forse aveva finito lo slot dei cambi. Che dirvi, Inter superiore, manifesto la superiorità questa sera, nonostante il Monza sia una bella squadra, nonostante abbia un buonissimo palleggio, un buonissimo palleggio, dei buoni giocatori, soprattutto il 28 ragazzi, il 28 è qualcosa di, il numero 28. Colpani, ha dei piedi buoni questo ragazzo, è forte, infatti è stato quello che nel primo tempo, diciamo, ha dato gli spunti, qualche spunto in più al Monza. Poi per il resto l'Inter ha fatto strabene, ha amministrato bene la partita, non ha rischiato quasi mai. In attacco abbiamo fatto, forse non lo so, occasioni golle, penso una ventina, una ventina di occasioni golle più o meno ci saranno state nella partita. Benissimo, benissimo Turam, alla faccia di Chie, che dice, mi sembrava spaisato questa sera, meraviglioso, delle aperture che mi ha, delle aperture che mi ha impressionato, e delle giocate, ragazzi, che chi non è intelligente nel campo non le può fare, queste giocate qua. Ha fatto delle cose veramente, veramente da, come si dice, elogiare. Arnautovi c'è entrato strabene, Lautaro stasera strepitoso, ragazzi. Lautaro stasera strepitoso, in ogni palla, in ogni dove, Lautaro si vede che è il capitano dell'Inter che vuole vincere, che ha fame di vittoria, e fin quando ci sarà un capitano così, la squadra andrà, remerà sempre insieme a lui, perché si è visto anche sul finale, sono molto uniti, sono tanto uniti, è una squadra compatta, è una squadra che, diciamo, ha fatto inserire, ha fatto sì che si inserissero benissimo i nuovi, sono stati bravi i vecchi giocatori, ovviamente. Mi dispiace, se dimentico qualcosa, la Petar Mian, di che stiamo parlando, anche Bastoni, benissimo, De Vrij, mi è piaciuto stasera tantissimo, e il centrocampo, bene, raga, io mi sono emozionata quando vedo uscire Lautaro Martinez, entrare frattesi, vedo uscire Federico Di Marco, bella partita anche la sua, e vedo uscire Federico Di Marco, e vedo entrare Carlos Augusto, grandissimo giocatore, e lo ha dimostrato in quel quarto d'ora che ha giocato, venti minuti, vedo uscire Dumfries, vedo entrare Quadrato, che ragazzi, a livello tecnico, io alzo le mani, perché non gli si può dire nulla, ed è una gioia, questo per tutti quelli, io non voglio parlare ovviamente, già alla prima partita di, oddio, grande Inter, questo però, alla faccia di chi, continua a dire, che ci siamo indeboliti, e ancora, e ancora, non è finito, il calciomercato, e ancora, non è finito il calciomercato, io questa sera, mi sono divertita, ragazzi, vi abbraccio forte, perché sto molendo di fame, eppure il mio fidanzato, troppo come ammazza, se non vado a mangiare, vi abbraccio forte, come se fossi lì, e ricordatevi sempre, che la vostra Luca, vi vuole bene, e sempre, 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 forza Inter, continuiamo così, grazie, 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 grazie,